Good morning a tutti voi e buona giornata, sempre in compagnia di Luca, capitolo 14, versetto 1. Un sabato Gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo. La questione del sabato è veramente dirompente nel Vangelo, perché è uno spartiacque ed è un nodo attraverso cui Gesù si scontra veramente tanto con gli uomini di Dio. E sembra paradossale questa cosa qua, però fa tristezza pensando a loro, ma fa tristezza anche pensando a noi quando facciamo le pulci per tante situazioni, facciamo tanti distingo. Adesso mi viene in mente perché ho parlato ieri sera, abbiamo dedicato il tempo alla questione dei migranti. E accoglietevi gli uni gli altri come io ho accolto voi. Punto. Non è che... Poi sono i governi che devono governare certe cose, no? Ma per noi cristiani l'accoglienza è sacra, ad esempio. Ecco, lo invitano da uno dei capi dei farisei, ma lo invitano appunto sempre allo stesso modo. Stavano ad osservarlo. Sono lì pronti. E infatti, che succede? Ecco, davanti a lui vi era un uomo malato di idropisia. Rivolgendosi ai dottori della legge, ai farisei, ai teologi, Gesù disse, è lecito o no guarire di sabato? Ma essi tacquero. Insomma, sono più rigidi di Dio gli uomini di Dio, no? Dio è per la vita, Dio è per la salvezza, Dio è per la guarigione. Lo volete capire, sì o no? No, voi che rappresentate lui, invece tacete, non prendete posizione. Il sabato è diventato un'idolatria, il sabato. Egli lo prese per mano, lo guarì e lo congedò. Poi disse loro, chi di voi, se un figlio o un bue, gli cade nel pozzo, non lo tirerà fuori subito il giorno di sabato? Ma certo che lo tirarei fuori, mica lasci morire, figuriamoci, tuo figlio, per rispettare il sabato, per rispettare Dio, ma dico, ma stiamo scherzando? Non potevano rispondere nulla a queste parole. Ecco, questa cosa qui è micidiale, no? Piuttosto che, mannaccia, convertire il proprio cuore, non rispondono nulla. La legge per loro viene prima di Dio. La legge per Dio viene prima di Dio. Una cosa senza senso. Gesù mette sempre, sempre, sempre al centro noi. Dio mette al centro l'essere umano, la sua salvezza, la sua guarigione, la sua vita. Non mette se stesso il rispetto per se stesso, per il sabato, per la domenica. Ma vai. Bene, siamo cristiani simili a Dio. E se siamo così, metteremo al centro gli altri esseri umani, quelli più debole e più fragili. Le cose belle della giornata di ieri. Da ieri, appunto, abbiamo fatto un'attività molto bella. Poi sono venuti due ragazzi, due giovani, grandi, che vivono con me a raccontare il loro viaggio. Un viaggio tipico. Loro ieri hanno parlato della rotta balcanica e poi della rotta classica attraverso il mar Mediterraneo. E' stato bello perché è la prima volta che loro raccontavano la loro storia. I ragazzi hanno fatto tante domande. E poi abbiamo raccontato qualcosa delle nostre case, del perché sono nate, del come sono nate. E qualcosa, come dire, dei segni che Dio ci lascia. Ecco, adesso non ve le racconto perché sarebbe lunga. Però è così, è così. Dio ci lascia dei segni e quando li cogliamo, come dire, facciamo cose più grandi di noi. E facciamo cose che magari non avremmo mai pensato. Ale, buona giornata a tutti voi.